Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di un mondo di cubi Ragazzi 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 oggi cominceremo con la costruzione della casa vera questa volta E costruiremo in questo primo episodio diciamo della costruzione l'ingresso della casa Che sarà una specie di corridoio Però prima di appunto costruire la casa andiamo prima di tutto a dormire perché ho visto adesso che si sta facendo notte E cominciamo subito a craftare un nuovo oggetto che ci servirà per i saluti Esatto infatti c'è questo oggetto che utilizzerò per i saluti e per anche i migliori commenti Molti di voi hanno già capito cos'è Andrò a craftare un libro Un libro sul quale è possibile scrivere E adesso vedo prima di tutto se ho il materiale per far tutto Ho una piuma Una sacca di inchiostro E un libro che dovrei avere qua Esattamente eccolo qui Perfetto ragazzi come si crafta? Si crafta mettendo il libro nella crafting table E mettendoci vicino altri due oggetti Questi altri due oggetti E voilà eccolo qua Libro e penna Se adesso noi scriviamo possiamo scrivere ciao Oppure possiamo scrivere cosa vogliamo praticamente come se fosse un documento di testo E noi qua appunto dovremo fare i saluti Quindi questo oggetto sarà molto utile ragazzi E lo utilizzeremo sicuramente molto Un'altra cosa di cui ho bisogno adesso è della lana Infatti per fare l'ingresso Che faremo in questo episodio Ho bisogno di un po' di lana Dove posso pigliare questa lana? Allora oddio perché sparo con l'arco Prima di tutto mettiamo a posto questo carbone Ok E allora 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 Dobbiamo scegliere un secondo Prima di tutto ci servivano delle cesoie Che cesoie non mi ricordo dove le ho messe Ci voglio alimentare probabilmente Se ce l'ho qua eccole qui Poi mi servirà del filo Dovemmo avere del filo vero? Sì ne abbiamo un bel po' Che utilizzeremo per fare della lana E voilà eccolo qua Ok quindi abbiamo già 5 pezzi Adesso andrò fuori Andrò a raccogliere lana da un po' di pecore E andrò anche a prendere dei fiorellini rossi Sì perché mi serve il tulipano Non il tulipano rosso Il papavero ecco Il papavero Che mi serve appunto per la Uh qua manca un pezzo di canna da zucchero Ve lo ripianteremo poi Ehm che mi serve Però non so dove andare a prenderla Vedo del rosso Però siamo delle rose Ah no eccolo là Ok perfetto Ecco anche questo l'abbiamo trovato Andiamo subito a raccogliere Penso che sia il primo Che uno dei primi che raccogliamo Infatti è una delle novità Che è stata aggiunta anche questa Nella 1.7 Ok eccolo qui un papavero Risaliamo anche di qui Uh là c'è una pecora Molto molto bene Vieni qua Zack Eh ok Perfetto Opla Saltiamo anche di qua Oh qua ce ne sono ancora Fantastico Abbiamo un po' trovato le pecore Un bel colpo di fortuna ragazzi Allora Piliamoci queste bellissime rose Rose rosse Che mi piace un casino Grazie Si rompono come l'erba Quindi sono molto facili da rompere Ok Perfetto Vediamo un pochettino se ci sono Altre forme di vita intelligenti In questo bosco Uh la vedo delle cani da Mucca Si mucca ti porto con me O meglio Porto con me la tua pelle Ok Uh là c'è una gallina Che vado anche questo qua a fillare Lo so oggi ho Sede di sangue ragazzi Uh qua Cane da zucchero Grazie Ok Questo qui è un bosco di sole e betule Infatti vedete che il legno è tutto bianco Non Nessun doppio senso per favore ragazzi No Vi prego no Adesso i commenti di la gara Nel doppio senso E Ho il inventario pieno Però ho avuto via la cana di zombie Sac E piglio tutta questa roba qua Ok Dopo esserci Dedicati anche alla Raccolta dei fiori Andiamo A Appunto Verso casa Cominciare a costruire l'ingresso Penso che mi servirà Altra lana Comunque farò un piccolo stacco Ragazzi E Cosa farò semplicemente Andrò a Colorare un po' di lana E andrò a fare dei tappeti Questi tappeti Saranno Rossi E bianchi Infatti terrò una striscia bianca centrale E due strisce rosse laterali Per cominciare a fare il pavimento Quindi Comincio a fare questa piccola cosa Quindi cercherò anche Della lana qua e là E Niente Quindi ci vediamo tra poco Con il pavimento Ok ragazzi Rieccoci Adesso andrò a prendere Il quarzo Che avevamo qua Peccato che siamo pieni Quindi dobbiamo posare un paio di cosette Tipo 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 Non si può posare niente Fanta Ho delle altre fiori Quindi ce li prendiamo Posiamo tipo Sta roba qua Ok E andiamo A raffinarla Allora Andiamo a raffinare il quarzo Infatti ho con me un piccone Che ha Appunto L'incante di mo' fortuna Anzi Però prima di Andarlo a trasformare Direi che possiamo utilizzare Quello che abbiamo già Dai Infatti adesso mi servirà il quarzo Per andare a fare Alcune Colonne Di quarzo Come si fanno Allora Così Si fa il quarzo Ok E così Se non sbaglio Si fanno le colonne Esatto Infatti così Adesso abbiamo già 16 colonne Andateci piano col quarzo Perché a differenza Degli altri cubi Non si può Decraftare Quindi andateci piano E cos'è che mi servirà Mi servirà anche Tanta stone Quindi adesso penso Che dovevo mettere a posto Un po' Tanta roba E Eh si Penso proprio di si Perché qua Ho veramente Un bel casino Nell'inventario E Quindi Posiamoci anche Il legno Eh si Dovevo fare Un bel po' Di pulizia Quindi ragazzi Direi che Adesso appunto Ho fatto giusto Questo piccolo Questa piccola Annotazione Per ricordarvi Che cosa voglio fare E Niente Quindi adesso Continuo Con Questa volta Utilizzerò il quarzo Per le mura E poi vi farò vedere Tutto quanto Finito Ok ragazzi Rieccoci E voilà Mi piace un casino Cavolo Adesso ci faccio Un bellissimo screenshot Di quelli tattici Così Tac Ok Anzi così Sono indeciso Così dai Ok Perfetto Ragazzi È Abbastanza carina Sì Ho voluto mettere Dei fiori Del legno Del Vabbè logicamente Non è ancora finita Andrò a fare Ancora altre piccole Modifiche Quali possono essere Allora Prima di tutto Una cosa Così Vi faccio vedere Tipo Una cosa così Ok Classica Molto classica Perfetto E me ne servono Ancora Allora Altre tre E altre tre Ok Tac E Tac Tac Andiamo a metterle Tac 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 Oddio Ho sbagliato Beh va bene Lo stesso Si non cambia niente Tac 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 Non cambia niente Una all'altra Solo quando le apri Vedete Vanno giù Niente Comunque questo qua È il giardino Diciamo il bel giardino L'entrata Guardate Mi piace veramente tanto Veramente 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 Ok Quindi Come la possiamo migliorare La possiamo migliorare Ancora in tanti modi Tipo qua faremo una stradina Probabilmente Però Aspetterò a fare la stradina No Si è messo pure a piovere Che tristezza E Sta pure facendo notte Quindi facciamo anche andare a dormire E Così almeno La tristezza se ne va Ok E Niente ragazzi Quella lì è l'entrata Adesso andremo A Diciamo Concepire Lo spazio interno Allora Non so Come lo andrò a strutturare Perché appunto Vi ricordo che La sto abbastanza E Facendo così Alla fine Perché voglio adattarmi A L'ambiente Non voglio Che l'ambiente Si è adatti a me Voglio Io adattarmi all'ambiente Quindi vorrei tipo Scavare Adesso E fare Uno spazio Circolare All'interno Quindi Facciamo Andiamo avanti di Tre blocchi Ok Partiamo con Tre Beh no Partiamo già con Cinque Perché sicuramente Poi verrà più grande Di cinque Quindi Così Adesso si Non state guardare Come sto scavando Però Ok Poi facciamo Cinque blocchi Dal tappeto Ok Uno Due Tre Quattro Cinque Ok Pensiamo Tra virgolette Che questo qua Sia il centro Ok Adesso comincerò A scavare Tutto qua intorno E creare una zona Che verrà Cinque per cinque Cioè meglio Con raggio Cinque Anche se sarà quadrata Quindi beh Lasciamo stare Farò un bello scavo E Poi vedremo Se sarà troppo grande Se sarà troppo piccolo E A proposito Qua logicamente Non è finito Andrò a mettere Penso E ripeto Penso L'argilla L'argilla che abbiamo Anche se potrei mettere Potrei fare delle altre decorazioni Devo pensarci E La farò ancora di off camera Anzi Vado subito a prendere L'argilla Così la provo E Comunque faccio questo Altro piccolo stacco Infatti Non so se avete notato Ma Rispetto alla scorsa stagione Sto andando molto molto più A stacchi Rispetto Appunto alla Seguente Perché Non lo so Mi trovo meglio Penso che sia più bello per voi Perché Riuscite a vedere più cose E sia anche più comodo per me Perché non vi annoio E E comunque Magari Posso stare anche io Più tranquillo Comunque se Non la pensate così Scrivetelo come al solito Nei commenti Eccola qua La nostra Argilla Direi che appunto Vado a fare questa decorazione Ci vediamo tra poco Ok ragazzi Eccoci Allora invece che Essere Un 5 di raggio Sarà un 11 di raggio E Là c'è una pecora Su un albero Wow Ok Comunque Detto questo E Appunto Lo allargerò ancora un po' Là vedete Io praticamente Scaverò fin qua Poi tornerò di qua E cercherò di togliere Tutta questa Massa In più Comunque Vi faccio notare che qua Ho scoperchiato La montagna Vedete E Voi dite Ma cavolo Ferre Un secondo fa Vi ho detto che Ti saresti tra virgolette Abituato O meglio Unito alla natura E infatti Io mi unirò alla montagna Infatti Un pezzo della mia casa Uscirà dalla montagna Quindi la mia casa Rimarrà Con l'entrata Che appunto Entra nella montagna Vi faccio anche vedere Rimarrà con L'entrata Così E di là Già vi dovremo spuntare Un pezzettino Quindi Verrà una cosa Molto particolare E Allora A proposito di cose particolari Qua sta Sta facendo notte E voglio anche far vedere Che questo Specie di Vialetto L'ho fatto con Alla fine La Clay Azzurra Che terrò Penso per tutto Il lavoro E qua dietro Vedete Gli scalini illuminati Che fa tutto quanto luce Perché Ho messo Appunto delle torce E dietro i scalini Che fanno comunque Passare la luce Non è una delle soluzioni migliori Infatti L'andrò a cambiare Adesso però Prima penso Dormire Però Devo pensare Come illuminare Penso che probabilmente Utilizzerò la glowstone Perché Più avanti Quando abbiamo un mob spawner Con le streghe Potremo Veramente 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 Usare Usare Tanta glowstone E logicamente Parlo di Un buon 15 livelli Di Spawner Quindi Solo 15 No Facciamo una decina Di livelli Penso che Siano sufficienti Per poter Sprecarla Glowstone Così come si vuole E niente Quindi il soffitto Per ora Sarà alto 4 Penso che diventerà E alta Poi alto 5 Si vedrà E Per adesso Mi limiterò Off camera A finire lo scavo E a progettare Qualcosina in creativa Cambierò probabilmente Questo Non lo so Però adesso Prima che appunto Prima di salutarvi Prima di dare appuntamento Al prossimo video Voglio fare ancora Una piccola cosa Allora Prima di tutto è giusto Un pochettino Questo Buco Facciamo un po' di terraforming Nel frattempo Voglio parlarvi di Un argomentino Che mi avete chiesto In tanti E sono sorpreso Che me l'avete già chiesto Soprattutto Perché siamo Alle tredicesimo Quattordicesimo episodio Con questo Si Siamo al quattordicesimo episodio E mi avete già chiesto Di mettere in descrizione La mappa E giusto per Non dimenticarmelo Me lo sono anche scritto Sul mio Fidelissimo Quaderno Che veramente Utilizzeremo molto E Ragazzi Beh Sono a parte che sono Veramente sorpreso Che non la chiedete già La mappa E Si La lascio in descrizione Ma penso Tra un po' di episodi Penso che sia veramente Troppo troppo presto Per lasciare in descrizione Primo perché Non c'ho Molta voglia io Principalmente Di caricare la mappa Secondo perché Comunque non è che sia Ci sia molto a vedere Cioè Tutto quello che vedete per adesso Lo potete fare tranquillamente Anche voi E Comunque sono contento Che la mappa vi piaccia Spero che vi continuerà A piacere sempre di più Perché comunque adesso La continueremo ad arricchire Creeremo veramente sempre Molte molte cose E E niente ragazzi Quindi Direi che Per questo video è tutto Spero che il video vi sia piaciuto Anche qua magari potremo fare una stradina Che ci ricollega a questa zona Che comunque questa zona è rimasta Un prato senza erba Oddio Devo inventarmi qualcosa Meglio Lì c'è una cosa che vorrei fare Con tutto quello spazio libero Però devo vedere Se è fattibile Andrò anche quindi A distruggere tutti i portali Più avanti E anche perché Come ci aveva consigliato l'utente Che scusa Non mi ricordo più il nome Nello scorso episodio E Andremo a fare il portale Ad altezza Cioè fuori dalla bedrock Come ci consigliava appunto Quest'utente Se non lo sapete Di cosa sto parlando Andate a vedere Lo scorso video E Niente ragazzi Quindi Io come al solito vi ringrazio Vi ricordo che se volete Sare salutati Di lasciare un commento Oggi saluti Non li ho fatti Perché erano pochi Quindi quando sono pochi Automaticamente scattano Diciamo La puntata successiva E Niente Quindi io vi ringrazio Vi do appuntamento Al prossimo video Ciao a tutti